Dunque, quindi oggi abbiamo sempre il nostro temi di problemi di storia delle religioni, la prossima settimana invece facciamo la lezione speciale per la festa della donna, siccome c'è comunicazione successo, venerdì prossimo, venerdì al te, la prossima settimana facciamo tutte le donne che sono partite da zero, sono arrivate risultati di grandissimo successo e quindi facciamo questa puntata speciale, lezione speciale sulla donna, mentre il 15 le religioni niente, perché faccio il mio compleanno, allora non ho festa, vacanza, e qui poi le religioni tornano il 29 di marzo. Il 15 è festa? Sì, per me è festa, solo per me. Cioè una settimana prima per tutte le donne, la settimana dopo solo per me. Sì, esatto. Ecco, il 22, sempre comunicazione, quindi 8 comunicazioni successo, oggi le religioni, 8 comunicazioni successo, lezione speciale sulle donne, 15 niente, 22, di nuovo comunicazione successo, le religioni tornano al 29, quindi dal primo va a finire il 29. Quindi, ok. Quindi adesso vediamo un po' di misteri, vi avevo promesso di portare sempre un po' di oggetti particolari, quindi questo era quello che avevo promesso di portare rosario buddista, con tutti i testi, perché ricorda che l'esistenza è passeggera, e quindi ogni, questo si chiama Mala, generalmente, come Mala, M-A-L-A Mala, rosario buddista e ogni chicco è un'invocazione, per ricordare l'esistenza che è transitoria e terrena, Anita si parla, cioè transitoria, io lo dico, questo è fatto, questo ho preso, prego. No, no, cosa dicono, mentre di... A proposito, ah, cosa dicono, ecco, ecco, giusto, perché io poi ho portato anche rosario islamico, ma sbaho, non lo chiamate, perché ogni poi, in alto... Ma sì, noi facciamo Kassai, che è un paura arabo. Ok, questo invece è quello islamico, no? Rosario ha usato diverse religioni, tra cui questo è quello islamico, questo è quello buddista tailandese, perché insomma Maria, serve per la preghiera meditativa, ovviamente c'è anche nel cristianesimo cattolico, e quello è il cristianesimo ortodosso. Mentre quello islamico, appunto, serve per ogni chicco, è ogni grano, un'invocazione, per ricordare un attributo di Allah, cioè sono delle... Buonasera, sono degli aggettivi, praticamente il misericordioso, il potente, leale, buono, e tutto questo sono degli aggettivi, no? Quando vedete un bravo musulmano che passa i vari grani, ogni grano ha un aggettivo, sicuramente, di Allah, che vuol dire l'eterno, cioè di Dio. Mentre quello buddista si chiama Mala, e beh, i grani sono molti di più, sono cento, e ognuno serve per meditare sulla transitorità della vita, infatti vedete che ognuno ha un teschio. Vedete? Questo viene da Bangkok, Thailandia, questo qui viene, mi pare, dall'oppressione G, non so, mi ricordo l'opera, comunque, sì? Sì, è questo, non è il vostro, è questo, signora, cosa ha visto? È questo? Sì. Cento. Però lei non lo usa. Com'è? Non lo usa? Io usavo, sì. Parano. È significato, volevo portare tutti gli operatori da... Non ne ha usato? Sì. Ognuno poi, è uno scherzo, ognuno poi chiaramente... Va bene. Per meditazione, molto bene, in effetti io quando facevo un'opera meditazione, penso in tua essenza al Dio e a me. Sì. E siamo andati in un paese medio orientale o anche qua, qualcuno si può vedere che qui sono uomini che... Tante donne, ho visto soprattutto uomini che passano a questi grani e ogni grano ha, dicevo, un attributo, un attività di Allah, un potente, misericordio, e li sanno tutti in arabo, uno per uno. In arabo? E quindi se... Allora, Sì, sì. E poi l'ultimo è invece riservato al sedere che vuole dare una qualità, un attributo all'ora. Giusto? Ho detto giusto? È l'esperta questo dell'Islam che l'abbiamo qua di persona. Ma praticamente il rosario ce l'hanno così di vedere dicendo? A me, non tutto? Beh, non tutto. Qui abbiamo il buddismo, il hinduismo che adesso c'è l'uomo ma non l'ho portato quello hinduista, il Islam, non Islam, Islam, cristianesimo cattolico, cristianesimo ortodosso, protestantesimo o no, anglicanesimo o no, tra i cristiani, taoismo ce l'ha, ah, gli hanno gli Ari Krishna, c'ho anche quello col sacchettino, non li ho portati tutti oggi proprio per questi due, insomma. Crebbe per la preghiera meditativa. E qui sono tutti i nomi di Allah che abbiamo detto. Questo invece, poi passiamo alle nostre, questo invece è uno dei tanti tipi di Yad, Y, A, D, qui invece entra in una versione ebraica e Yad vuol dire dito mano, eh, questo dito, eh, e serve per tenere il segno della parola di Dio, dei rotoli, ancora oggi vengono usati nella sinagoga, cioè nel tempio, in realtà non la chiamiamo sinagoga, si aprono dei rotoli e la persona che legge tiene il segno, non tocca il rotolo e deve tenere il segno e tiene il segno con questo puntatore metallico, questo è uno dei tanti modelli ma ce ne sono tantissimi, che è la manina che fa così, non so se si vede da lontano, e tiene il segno dalla, probabilmente ma non c'è scritto nel Vangelo. Che noi facciamo con la corte perché tipo non è di male, forse è sporca, non toccare il rotolo. Sì, perché è sacro il rotolo, ancora oggi usano i rotoli, nel Vangelo c'è scritto che anche Gesù ha preso uno dei rotoli di Isaia, l'ha letto, ha letto questa profezia oggi, si è barata davanti a voi, non c'è scritto ma sono sicuro che ha usato sicuro uno yad perché tutti gli ebrei che poi entrano vanno in sinagoga e sono chiamati a turno, non è, ce n'è uno, non c'è solo il rabbi il maestro, mi vado, lui è stato invitato a leggere, non era considerato il rabbi di quella sinagoga, Cafarno, non c'è scritto ma perché per loro è scontato, non l'amo neanche, avrà usato sicuramente uno yad per leggere, anzi da destra a sinistra è scritto l'ebraico, non così, da destra a sinistra in ebraico ha tenuto il segno con questo oggetto. sono dei rotoli che si prendono da un armadio che sotto un velluto che si chiama parroquette vengono presi e messi sul leggio aperti e poi si tiene il segno l'ebraico come l'arabo è da destra a sinistra e poi tengono il segno lui sicuramente avrà fatto così ha letto e dopo ha chiuso all'inizio la scrittura greca era un austrofeo e quindi si scriveva a destra? Senza vocale e tra l'altro le vocali sacre di Yahweh sono l'equivalente per noi si dovrebbe scrivere yh di doppio h perché non hanno le vocali e vuol dire del verbo io sono qual è il tuo nome io mi chiamo io sono cioè io sono l'essere in assoluto Aya Yahweh io sono io sono io sono colui che sono cioè l'essere sono l'esistenza in assoluto la vita stessa quindi Yahweh vuol dire io sono ma come si fa la possibilità di buca eh beh questa è la loro lingua quindi cioè tutto 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 poi abbiamo la anche anche oggi ce l'ho reggito di andare in giro con questi oggetti comunque comunque è un karkem tutti avete a casa un karkem no? no allora questo è un karkem buddista si mette si intinge nell'acqua è il monaco buddista che deve benedire seduto sul suo cuscino arancione basso largo tutti vuole benedire i fedeli lo intinge nell'acqua e benedice è una specie di aspersorio quello che abbiamo usato anche nei tutti cattolici però questo è un aspersorio buddista fatto con la coda di pallone con la punta l'intinge o con le piume no lo intinge qua e poi butta così no no questa questa la parte e poi l'ultimo che vi avevo detto ma non vi avevo risato eh cioè non l'avevo portato era questo ve l'ho ricordato ve l'ho detto a voce sono le perché la signora anche Pasone credo non lo aveva visto ogni tanto riprendiamo delle cose rapidamente questo è uno dei mezzi per diffondere la preghiera nell'aria insieme con la ruota che poi vi porterò anche in un secondo momento perché non tutto oggi ecco e queste sventolano questo è buddismo invece buddismo tibetano no c'è una preghiera scritta in tibetano voi sapete tutti il tibetano no? sì non sapete ah vabbè comunque c'è una preghiera scritta in tibetano si chiamano in italiano non so quanti lo chiamano in italiano comunque cavalli del vento ok perché c'è su cavallo e qui c'è la preghiera tutta scritta in tibetano e sventolando questo queste bandierine ce ne sono di varie dimensioni questo è uno dei tanti c'è anche più grandi molto più grandi di così dalla punta di un di uno stupa che è la punta iconica di un un tempio buddista soprattutto in Thailandia in Nepal fino alla base sventolano quindi in maniera diagonale così e diffondono la preghiera ogni colore rappresenta un colore della natura il giallo il sole il verde la terra il rosso il fuoco il bianco l'aria il blu l'acqua e si trovano anche sull'Himalaya ci sono dei tempi anche nella lingua e sventolando diffondono questa preghiera sono solo questi qua sì nella loro lingua si chiama lungta o comunque in italiano cavalli del vento perché sta fatto un cavallo qui e poi c'è la preghiera è lo stesso concetto della ruota della preghiera che voi vi porto l'avete visto nella foto ve la porto un po' più avanti che diffonde la preghiera sono oggetti simbolici naturalmente le religioni e non solo le religioni usano simboli anche i cartelli stradali sono simboli i numeri le lettere tutti noi esseri umani agiamo con i simboli anche le carezze i baci sono simboli tutto è simbolo e ovviamente anche le religioni anche usano cose simboliche per esprimere un sentimento di fede ok questi erano quelli di oggi non è che li porto tutti mentre per quanto riguarda i misteri del soprannaturale anche senza occhiali qui c'è un universo sconfinato partiamo dal discorso di là qualcuno di voi aveva già fatto questo mi pare la signora misteri del soprannaturale è nuovo per tutti è nuovo per tutti questo perché qui come funziona sapete un i3 magari uno arriva un anno l'altro non arriva un anno ogni tanto ripeto delle cose perché ma non vi ricordo se vabbè comunque la maggioranza di voi tutti quanto pare perché nessuno ha detto no io lo farò già fare allora per me chiaramente non vi faccio e quindi quindi misteri sono tanti sono di là gli angeli satana mistero del male in generale prima di arrivare al demonio cioè il male chiaramente tocca a tutti anche chi è ateo chi non è credente ma che cos'è che mistero è questo anche quello è un mistero no? miracoli tutto quello che vi sto dicendo riguarda praticamente tutte le religioni non sto parlando qui di cristianesimo e tantomeno del solo del ramo cattolico queste cose che qui vediamo riguardano praticamente tutte le religioni tutte le religioni infatti credono in una vita ultraterrena perché le uniche persone che non credono che ci sia qualche cosa dopo la morte sono le persone non credenti che hanno ovviamente il diritto di non credere però dicendo chi è percentualmente vi ricordo senza fare giudizi ma da riflettere questo dato che persone a meno che si dichiarano nei censimenti nelle statistiche sulla terra abbiamo circa 6% in Italia e non si va oltre il 15% intendo dire le persone che dichiarano che sono convintissime non si sa bene come ma sono convinte che non ci sia niente dopo una morte terrena che non esista che non esista un'anima che non esista Dio degli dei ok a questo livello di credenza perché anche quella è una credenza non può 10-15% nel mondo 6% soltanto in Italia perché ho letto che le persone che non credono in niente quando arriva in macro una settimana che decisione a morire e all'improvviso comincia a fregare tante persone quindi nella vita quando sei bene è che comodo non c'è niente quando stai male che sai che sei arrivato a capolinea forse incominciare la discussione è la tua sicurezza ho capitato spesso che c'è stata quasi una conversione con una malattia importante con un cammino doloroso ci sono stati dei cambiamenti sì perché è difficile per un essere umano dire addirittura il funerale laico che hanno fatto Dario Fo che era non credente poi ti vedremo tu sai sempre cioè qui è chiaro che è difficilissimo dirsi no va finito tanti saluti non c'è più niente certo e le persone umane che hanno fatto cose belle a tutti i livelli rimane un ricordo sulla terra ecco questo è più importante avere successo anche per lasciare agli altri dice sono passato da sta terra qualcosa ho fatto insomma quindi secondo me è un dovere non è non è una mania di grandezza cioè noi abbiamo il dovere di lasciare qualcosa qualche minimo segno cioè minimo veramente dovremmo pensare in grande non in maniera di grandezza ma perché vogliamo raggiungere quei risultati poi comunque lasciare un segno a tutti i livelli questo secondo me è doveroso quindi se non c'è niente di noi su Google sono guai ma per voi secondo me qualcuno ha anche un atteggiamento non di superiorità di come dire dell'intellettuale ce ne sono alcuni che va oltre le righe che è non faccio politica ma in un certo modo devi avere l'atteggiamento anche di non credere poi peraltro si occupa anche di tante cose ma ce ne sono alcuni che forse sono convinti altri penso che sia un po' un atteggiamento bisogna non confondere che le persone agnostiche che non prendono posizione quindi l'anche di solito è un atto razionalista abbiamo detto che il razionalismo è tutto ragione niente fede mentre il contrario sono due estremismi senza offendere nessuno perché l'estremo opposto è anche insomma è tutto fede niente ragione no? cioè l'equilibrio insomma secondo me e non solo secondo me giusto sarebbe equilibrio di fede e ragione ma non soltanto nella fede religiosa la vita è fede e ragione e ricordate che abbiamo detto che tra le cose più belle di questo mondo non si basano sulla ragione l'amore non è qualcosa di razionale ma certamente è importante andare avanti in mondo e ovviamente questo riguarda anche chi non è credente quindi in realtà si sconfessa facilmente una persona che dice ah io non credo in niente però facilmente c'è dietro un problema anche senza offesa un po' psicologico perché niente è impossibile non avere fiducia in niente fiducia vuol dire non avere l'evidenza ovviamente se no si chiama evidenza quindi che adesso è ancora pomeriggio col sole grazie a Dio noi possiamo vederlo e non tutti è un'evidenza che io abbia un'anima o che la persona mi vuole bene che adesso non è qui questa è fiducia io non ho un'evidenza matematica quindi nessuno non solo secondo me ma io vi sto parlando nessuno può vivere senza un atto di fede certamente e Eric Fromm vi ricordate Eric Fromm e poi entriamo nelle misteri appunto Eric Fromm che era il discepolo psicanalista del maestro Sigmund Freud che era ateo appunto diceva la fede è un atto di amore e chi ha poca fede ha anche poco amore cioè non è possibile amare senza fede nel senso di fiducia non nel senso di fede religiosa quindi anche chi si dichiara infatti ecco perché sono così poche quel numero di persone che si dichiarano proprio ate profondamente ate e razionaliste sarebbe perché il razionalismo è un controsenso per l'essere umano non è possibile vivere con il razionalismo noi non viviamo solo di ragione non è possibile proprio vivere così quindi in realtà quella persona sta manifestando un dispiacere per qualche cosa poi adesso c'è sarà anche l'argomento sugli ateismi di solito i motivi degli ateismi a quel livello sono ideologici politici del dolore e dello scandalo uno ha avuto uno scandalo forte in un ambiente religioso oppure del dolore il mistero del male perché Dio o gli dei permettono una sofferenza politico ideologico è abbastanza evidente noi maestri del sospetto ideologico dal marxismo Feuerbach eccetera quindi è quello vabbè comunque misteri ecco appunto la parola misteri indica non è un sinonimo cioè non vuol dire la stessa cosa dell'assurdo l'assurdo è qualche cosa che è contro la ragione uno più uno uguale tre è un assurdo e posso dimostrarlo il mistero è superiore alla ragione e anche lì non riguarda solo le religioni la religione noi viviamo anche di mistero no? pensate che addirittura questo l'avevamo già fatto però però mi ha colpito ve lo rigo in una scienza esatta qual è la scienza? ditemi il nome di una scienza esatta assoluta la matematica addirittura ecco vi è venuta in mente subito quindi per antonoma la matematica nella scienza esatta ha cose credute e non dimostrate le cose credute e dimostrate si chiamano teorene come quello di Pitagora la lavagna lo dimostro ma nella matematica però di solito ecco perché questi livelli non si fa nei superiori ma si fa chi va a studiare matematica all'università e che sa che esistono le congetture matematiche le congetture matematiche sono 40 non è una 40 di cose credute in matematica cioè uno dovrebbe dire no allora non ci credono invece ci credono ma nessuno è mai riuscito a dimostrare tra cui il fatto che un numero pari sembra la somma di due numeri dispari è una delle 40 congetture nessuno è mai riuscito a dimostrarlo ma è data per vera è creduta vera è un atto di fede tra virgolette non fede religiosa no? pensate addirittura in matematica c'è l'atto di fede tra virgolette allora il mistero è qualcosa che supera la ragione che magari non è conoscibile adesso potrebbe essere conoscibile secondo piano è proprio su un altro piano però il mistero no? allora qui entriamo perché se veramente se no andiamo eh no qui andiamo ecco avanti non indietro sì non so se si vede meglio spegnendo tanto la mia faccia si è lo stesso non è che ecco grazie signor Pasanè ecco allora sì allora qui vedete è un po' piccolino comunque in quello che abbiamo già detto a voce prima la fede nell'esistenza di una vita ultraterrena è presente in tutte le regioni altrimenti sarebbe l'ateismo nella Bibbia appare prima la fede nello sceolo meglio dei morti successivamente la speranza e la risurrezione il concetto di mortalità dell'anima quindi anche gli ebrei credono in un concetto di risurrezione del corpo uno si chiede ma che cos'è la risurrezione il corpo perché l'anima è immortale anche Platone lo diceva è ovvio che cosa vuol dire che noi risorgeremo con un corpo Cristo è cristianesimo risorto con un corpo non era uno spirito tant'è vero che dice non sono un fantasma avevamo paura è un fantasma no venite toccatemi ha mangiato davanti a loro dopo la risurrezione così scritto nel Vangelo quindi non era un fantasma era un corpo risorto un corpo che non ha più di limiti terreni di fatica dolore stanchezza ma ha un concetto di materialità che lo distingue dagli puri spiriti cioè gli angeli la risurrezione è presente nell'ebraismo nell'islam e naturalmente nel cristianesimo adesso un po' più avanti vedremo che significa Cristo risorto promesso ecco nel cristianesimo dei giorni di maggioranza di quino occidente la risurrezione di ognuno di noi no? quindi non solo lui è risorto il mistero insomma uno dopo tre giorni non è che cambia un granché di aspetto lui tra tre giorni sono lo stesso ma anche se al massimo se non faccio la barba un po' più lunga ma uno come risorge se muore poverino bambino un anno un altro muore a 40 anni e l'altro 90 100 con quale aspetto perché noi cambiamo non subito ma durante gli anni quindi anche quella è una domanda che anche queste hanno fatto ipotesi di fede perché non c'è la risposta no? fuori dalle regioni monoteiste cioè che credono solo Dio anche lo zoroastrismo che poverino non lo citiamo mai perché ormai sono rimasti pochissimi in realtà sono quattro anche gli zoroastriani è una regione monoteista ora marsta in India crede che la novitus traterena faccia vivere sfogli mortali del defunto quindi questa cosa è comune ebrei è presente anche nell'isolano è presente il cristianese è presente lo zoroastrismo probabilmente avrà come un corpo in cui ci riconosciamo anche se rimane il mistero poi ci sono proprio delle ipotesi teologiche ma senza un'età definita e senza i limiti terribili della materia la fede cristiana è basata sulla risurrezione di Cristo chi vive crede in me anche se muore vivrà e io lo risusciterò nell'ultimo giorno cioè questa è una promessa che ovviamente chi abbraccia la fede cristiana crede perché Cristo ha fatto questa promessa quindi non soltanto lo è risorto ma tutti gli esseri umani risorgeremo con una dimensione materiale dicevano cosa me ne faccio dimensione materiale in un al di là probabilmente per distinguerci dagli puri spiriti che un corpo non l'hanno mai avuto mai ce l'avranno per una completezza no? i fedeli ortodossi e anche quelli cattolici credono che l'unico essere umano puramente umano perché Gesù è anche divino per i cristiani che è Madonna la Madonna è stata assunta in cielo con il suo corpo di donna cioè è una donna completa non è uno puro spirito è una donna completa nella dimensione paradisia oltraterrena mentre io naturalmente parlo in concetti di tempo perché non ho mai provato non c'ho fretta a essere fuori dal tempo tutte le altre donne anche gli uomini a te tra virgolette aspettano una completezza con la risurrezione finale l'unica completa a parte Gesù che è anche Dio la Madonna che è in cielo anima e corpo infatti i fedeli cattolici e anche quelli ortodossi con la dormizione di Maria e i fedeli cattolici con l'assunzione di Maria in cielo credono che la Madonna sia in cielo anima e corpo cioè non è uno spirito è una donna completa mentre le altre donne che muoiono in questo momento cioè tra virgolette in questo momento perché il tempo non ci vuole non sono complete ma questo da quanto quando è che è stata da quanto tempo esiste questa il dogma dell'assunzione di Maria in cielo il dogma dell'assunzione Maria in cielo è quindi entriamo alla fine dell'ottocento 1858 sì quindi abbiamo uno detto quattro dogmi mariani sì per i cattolici ma anche gli ortodossi credono alla dormizione di Maria non c'era non c'era ufficialmente dichiarato questo dogma posso dire una cosa prego io sono religiosa mi dico le preghiere la chiesi però faccio fatica a pensare a Dio Gesù Cristo sappiamo chi è stato ma Dio per me è la natura è la bellezza è la volontà è l'onestà e per me è Dio se non lo so saprei come forse sbaglio sicuramente però no sbaglio ognuno è libero di credere cosa vuole perché Dio chiede è la natura ecco posso dire che si avvicina questa sua credenza che io prendo per buona la sta dicendo si avvicina tra le fedi anche se non è che uno per forza viene un'etichetta sì beh religione che è legato agli dei della natura è lo shintoismo giapponese i kami sono presenti nella natura ma addirittura negli oggetti la scorsa due volte fa abbiamo addirittura visto un rito che per noi sembra veramente non vogliamo essere offensivi ma addirittura fanno il funerale alle bambole delle bambine perché loro pensano c'è veramente si chiama Kuyo Kuyo in Giappone perché loro pensano che gli oggetti accontengono uno spirito dentro e quindi lo hanno fatto quindi beh comunque altrimenti entriamo nella sì sì nelle religioni ufficiali è quello poi altrimenti entriamo nelle religioni della natura allora abbiamo anche Wicca abbiamo la New Age ma qui usciamo dalle religioni però entriamo nel neopaganesimo che non è un'offesa ma è la realtà si chiama neopaganesimo neopaganesimo non è sembra una cosa brutale giusto neopaganesimo con tutti i rami di Wicca che è witchcraft in realtà poi lì però entriamo nella Wicca e il witchcraft in italiano è stregoneria senza nessuna giudizio morale e poi abbiamo le religioni del New Age in realtà non c'è più religione lì perché l'essere umano non riconosce una divinità riconosce una specie di panteismo che la divinità è tutto negli oggetti della natura quindi non so il suo potrebbe essere una forma di neopaganesimo che non è una fede la parola pagano si pagos natura pagos erano in città esatto l'idea della natura della campagna chi seguiva chi seguiva il cristianesimo era una gente voluta perché stava in città l'arco significa fuori in paese quindi ignorare perché ancora l'idea diventa pagano perché sta fuori dalla città esattamente l'idea della natura comunque per il dogma dell'assunzione siamo un po' più avanti nel 1859 è l'ultimo dogma che è stato proclamato e quindi siamo adesso io prima ho dato una data scorretta siamo un po' più avanti verso il 1954 esatto molto bene sì sono quattro dogmi e il più recente è proprio questo dell'assunzione ci si mandano lo è corretto io vorrei aggiungere due cose anche noi abbiamo 12 santi che è il dottigesimo e non c'è come Gesù alle fine di 30 anni che aveva un giorno che hanno visto che non c'è che gli islamici dicono che un giorno arriverà ma come arriverà con quale tempo che è rimasto nelle atmosfere tutto il materiale diventano come ossidanti non si può credere che rimane spirito o tutto quello materiale e dopo non so quanti anni arriverà con Gesù e altri santi che sono settati di condividere sono veni uomini veri credenti come come avviene il ritorno sulla terra si adesso vediamo secondo le varie religioni comunque si ripeto una dimensione il cristianesimo non parla di una risurrezione che era una vita poi sulla terra comunque viene una risurrezione come il corpo di Cristo in Ceno quindi nell'aldilà nell'Islam sì la persona sempre anche lì c'è una risurrezione una completezza è la completezza dell'essere umano poi dove avviene adesso lo vediamo quindi un altro aspetto interessante di questa frase la frase San Girolamo la tomba vuota è la cura del cristianesimo tutte le religioni credono la retribuzione per il bene e il male il concetto di inferno per il male presente anche nell'Islam e non solo è nel cristianesimo gli inferi sono presenti anche in molte culture pagane solo a partire dall'ebraismo il padrone dell'inferno Satana non è più visto come un Dio ma come creatura di Dio nel cattolicesimo cioè il ramo cattolico e il cristianesimo si introduce il concetto di purgatorio che è un'esclusiva dei cattolici ok che esiste non soltanto un paradiso o un inferno ma esiste un momento di purificazione prima del paradiso questo credono soltanto la chiesa cattolica quindi chiese evangeliche protestanti no gli ortodossi no gli anglicani no e poi vediamo anche perché esiste un inferno secondo quella fede cristiana visto che Dio è considerato buono vediamo tutte queste cose la preghiera per i defunti e le indulgenze possono ridurre questa pena temporanea di purificazione nella chiesa del paradiso pensate che la chiesa più grande del mondo che è San Pietro in Vaticano è stata costruita con la vendita delle indulgenze l'indulgenze a seconda di un'offerta in denaro è l'accorciamento delle pene del purgatorio applicate per un proprio defunto naturalmente sono stati fatti degli abusi che Martin Lutero ha messo in luce c'erano questi predicatori che andavano nei valli-villaggi mettevano su un teatrino di fuoco e poi dicevano guardate nel momento in cui questa monetina tocca il fondo della cassettina di argento tac un'anima lascia il purgatorio e va in paradiso e quindi tutti avevano qualcuno di defunto diceva io do questa offerta così mio nonno mio padre mia sorella da paradiso ok con la raccolta di questa offerta è stato non è qualcosa di polemico sto dicendo sto raccontando la storia ok con l'accordo di queste indulgenze che sono le indulgenze è stato costruito poi questa cosa è stato fatto un abuso tuttora esistono secondo la fede cattolica solo cattolica le indulgenze tanto vero che ancora oggi si dice lucrare indulgenza da lucro che è il denaro ma non viene più usato il denaro materiale ma si lucra indulgenza secondo la chiesa cattolica con la recita le credo preghiera secondo intenzione del papa confessione comunione sacramentale e si può applicare questa indulgenza a se stessi oppure un defunto che è i cattolici credono è in purgatorio naturalmente non possiamo sapere chi è ancora in purgatorio che è già arrivato in paradiso ma questo riguarda soltanto comunque la fede cattolica è per i protestanti e gli ortodossi o uno all'inferno o uno in paradiso cioè non è che ci sono momenti di purificazione per cui la chiesa cattolica pensa a questo perché non è che sulla casaccio perché esiste una preghiera nell'antico testamento di Giuda Maccabeo che prega per i defunti cosa che fa anche la gente normalmente su questa terra ora se uno prega per un defunto è perché pensa che non sia ancora pronto per la beatitudine perché se no cosa gli prego a fare per un defunto casomai il defunto deve pregare per me che è in paradiso chi prega per i defunti pensa che quella persona ancora non sia beata in paradiso ok infatti io per esempio non credo in questo e che direi non dico ma io prego per mia mamma che è defunta io prego per mia mamma preghi per me in paradiso perché per me non esiste purgatorio ok questa è la mia e chi prega la rincarazione che può essere allora che lo fa anche preghi per il defunto che magari in questo momento sia rinforzato ecco e magari nella vita che sta vivendo questa premiera mi può essere solo benefica ora sulla rincarazione non necessariamente do pregare per un defunto che è ancora defunto prego per un defunto che magari è già ridato e magari la mia premiera in questo momento riesce a spostare un'energia che va si trasforma in amore per queste persone che state dentro certo infatti adesso facciamo anche il discorso di rincarnazione adesso nella rincarnazione i fedeli che creano la rincarnazione cioè il buddismo l'induismo il taoismo infatti ci sono le preghiere nei tra virgolosi funerali che sono diversi abbiamo visto addirittura quello taiwanese con la signorina le preghiere sono fatte per istradare il defunto verso la la sua verso la sua beatitudine che si spera che sia arrivato già la l'asana del nirvana cioè la liberazione della rinascita nel caso si reincarni c'è tutto nel buddismo classico teravada c'è tutto secondo il codice pali uno si reincarna secondo di quello che ha fatto quindi se ha rubato si reincarna scimmia si ha troffato si reincarna serpente eccetera se ha fatto qualche cosa di particolare si reincarna in qualche modo e adesso vorrei evitare anche la parte sulla donna perché poi magari si offendono il signore qui ma uno si reincarna donna perché ha fatto qualche cosa di particolare nella vita precedente quindi quindi prima di dire qualche signora signorina ma io sono buddista ma cara signora signorina lo sa che è donna perché ha fatto qualcosa che non va nella vita precedente questo è il codice pali del buddismo e non lo so c'è il buddismo vabbè però uno deve conoscere le cose va bene ci si annoia il paradiso vabbè no ma questa è una deduzione logica no perché io dico vabbè il paradiso vabbè dove c'è l'amore anche su sta terra non lo sa noia no tempo eh vorrei che si vabbè paradiso c'è un amore totale quindi non c'è la noia cosa si faccia cosa è non lo sappiamo ma io posso da questa terra intuire che di sicuramente non c'è la noia perché se c'è un amore totale la gente che si ama non si annoia ok la noia è una cosa terrena la noia è una cosa terrena perché viene dall'incompletezza la noia viene dall'incompletezza no quindi nel paradiso c'è un amore totale un amore perfetto e quindi non può esserci la noia in cosa poi cosa consiste questo vivere non so ma io posso dire posso intuire perché non è che ci sono stati cosa non c'è di sicuro possiamo intuire cosa non c'è la noia non c'è certo ecco dice il Signore Dio ecco io apri i vostri sepolcri vi risuscito dalle vostre tombe questo è l'antico testamento quindi anche gli ebrei credono a una risurrezione del corpo c'era soltanto una setta ai tempi di Gesù che lo contestava che erano i sadducei e che non credevano alla risurrezione ma in realtà la fede ebraica e Zecchiele e anche Isaia ma di nuovo i vrami i suoi morti risorgeranno i loro cadaveri Isaia 26-19 quindi anche gli ebrei credono alla risurrezione del corpo no? molti di quelli che do e ancora Daniele profetto Daniele qui siamo dei profetti maggiori dell'antico testamento molti di quelli che do nella polvere e la terra si risveglieranno gli uni alla vita eterna e gli altri la vergogna per l'infamia eterna quindi anche nell'antico testamento si parla anche se non usando i termini paradiso inferno di beatitudini di dedannazione eterna vita eterna vergogna infamia eterna questo è il profeta Daniele antico testamento e quindi ebraismo il nuovo testamento da Gesù poi non vi meravigliate di questo perché era l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri undranno la sua voce la voce di Dio e ne usciranno quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e ancora riprende simile al profeta Daniele ma qui è il Vangelo di Giovanni risurrezione di vita alias paradiso e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna alias inferno Giovanni 5 chi mangia la mia carne Giovanni 6,54 dice Gesù Cristo chi mangia la mia carne beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno quel mangiare la carne beve il mio sangue avete già capito da dove cosa si riferisce è l'Eucaristia che poi può essere Santa Cena evangelica quella cattolica quella ortodossa quella anglicana tutti i cristiani hanno l'Eucaristia che non necessariamente è corpo per i cattolici e gli ortodossi credono che sia veramente corpo divinità mentre la fede evangelica simbolicamente riprende l'ultima cena col pane e il vino ma comunque tutti i cristiani hanno bere carne e bere il mio sangue infatti i primi cristiani sono stati anche accusati di essere dei cannibali come il vostro maestro